Dopo due anni è arrivata la confisca del patrimonio dell'imprenditore Angelo Restuccia, di 83 anni, di Filandari, fratello di Vincenzo Restuccia, deceduto alcuni anni fa, anche lui finito nel merino della magistratura per la costruzione mai completata della strada del mare. L'imprenditore Vibonese, secondo gli inquirenti, è ritenuto vicino ai clan Mancuso di Limbadi e Piromalli di Gioia Tauro ed è stato per questo anche sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il primo sequestro risale al 2017 con l'operazione denominata U Patri Nostrum, durante la quale fu accertata anche la sproporzione esistente fra il suo profilo reddituale e quello patrimoniale. Infatti, dagli approfondamenti fatti, in seguito a quell'operazione e anche dopo quella denominata Bucefalo del 2015, sarebbe risultato che Angelo Restuccia aveva rivestito nel tempo il ruolo di imprenditore colluso con l'andrangheta regina e vibonese, tanto che il patrimonio cumulato è risultato essere il frutto o il rimpiego di proventi di attività illecite. Le indagini hanno anche permesso di accertare che Angelo Restuccia conosceva da tempo i vertici della cosca Mancuso, frequentandoli e traendo vantaggi nella realizzazione di opere edil. Perciò, su richiesta della DDA, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto il sequestro, ora diventato confisca, dei beni riconducibili all'imprenditore, che consistono in un patrimonio aziendale e capitale sociale della Restuccia Costruzioni SPA, con sede a Mesiano di Filandari, esercente l'attività di fabbricazione di prodotti di calcestruzzo per l'edilizia. Nel dettaglio si tratta di 8 immobili e 27 veicoli. Il patrimonio aziendale, formato da 3 immobili e il capitale sociale, della Sud Frantumati, SRL, con sede legale a Filandari, esercente l'attività di lavori generali di costruzione di edifici. Il patrimonio aziendale e il capitale sociale della Edes Immobiliare SRL, con sede a Filandari, esercente l'attività di locazione immobiliare di beni propri. Il 33,33% delle quote sociali della FCF, società agricola SRL, con sede legale a Nicotera, esercente l'attività di coltivazione di ortaggi in piena aria. 27 beni immobili tra appartamenti, locali commerciali e terreni ubicati sia nella provincia di Vibo Valencia che a Roma, tre polizze vita e plurimi rapporti finanziari assicurativi, personali e aziendali.